per l'ultima volta, un progresso rispetto all'ultima volta. Sì, ma era un mio, 2000 metri, seconda fila, se deve effettuare dei passaggi, secondo me si mette male per lei. Grazie Francesco, andamento del gioco, in bilico il ruolo di favorito fra Villa Orba Jet e Varna del Ronco, al momento 2,60 Villa Orba, 2,75 Varna del Ronco. Si va al via, discosto Verobolide e gli altri abbastanza allineati, si va in partenza. Seconda corsa, indigeni di tre anni sul doppio chilometro, in otto al via, favori al gioco, divisi fra il 2 di Villa Orba Jet e il 6 di Varna del Ronco, si va allo stacco che vede partire piuttosto bene Venuzia Jet che in poche battute va a assumere il comando, al suo interno parte bene Villa Orba Jet, si sistema in seconda posizione davanti all'1 di Vola nel cielo e dal 3 di Vai col Vento Gal. Vedremo adesso le scelte sia di Zanca che di Salvo Cintura, l'impressione che le posizioni si stiano assestando e che dunque Villa Orba Jet resti in seconda posizione. In terza c'è sempre il numero 1 di Vola nel cielo, mentre adesso prova subito a risalire per linee esterne in maniera abbastanza convincente il numero 6, Varna del Ronco, che è chiuso da contro favorita. Gioco ormai chiuso 2,60 per Villa Orba Jet e 2,70 per Varna del Ronco. Primi 600 metri da 1,16,3 al chilometro, 45,8 il dato parziale, con Venuzia Jet in avanti, Varna del Ronco per linee esterne, Villa Orba Jet in corda, non bellissima, devo dire in meccanica, anche viene affiancata ad essa da Via Colvento Gal, quinto l'1 di Vola nel cielo. Ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro con al comando Venuzia Jet di fuori Varna del Ronco a seguire l'altra pariglia formata da Villa Orba Jet e da Vai Colvento Gal, 1,17 il primo chilometro, quindi andatura in linea con le possibilità della categoria con Varna del Ronco che continua a pedalare in esausta per linee esterne e diventa via via sempre più aggressiva nei confronti di Venuzia Jet, Vai Colvento Gal è in scia Varna del Ronco, non ha spazio al momento, la favorita Villa Orba Jet chiusa da Vai Colvento Gal e in scia Vola nel cielo, nel frattempo completa la sua azione di demolizione Varna del Ronco e passa a condurre quando mancano poco più di 400 metri dal traguardo, la segue Vai Colvento Gal, adesso si è liberata anche Villa Orba Jet. Primo chilometro da 1,16,8, 2,2,9 con Varna del Ronco in avanti, Vai Colvento Gal in seconda posizione e mentre non sembra in grado di cambiare marcia la favorita Villa Orba Jet che resta per il momento terza, resta d'arrivo con Gaspero Loverde che sembra poter controllare senza grossi problemi, prova Villa Orba Jet a battere almeno Vai Colvento Gal per il secondo posto, ma il traguardo è vicino, vediamo un po', vince Varna del Ronco, secondo Vai Colvento Gal, soltanto terza, Villa Orba Jet, davvero notevole la prestazione di Varna del Ronco ma era un po' nell'aria dopo l'ultima gara nella quale aveva fornito impressionante recupero sul cronometro 2,33,8, 1,16,9 sul doppio chilometro, doppio di Gaspero Loverde in giornata, quota di 2,70 colori della Bimag SRL, training dello stesso Gaspero Loverde, buon secondo Vai Colvento Gal in netto progresso rispetto alle ultime prestazioni, un leggermente sottotono terza, Villa Orba Jet, in numeri dunque 6,3,2, l'ordine d'arrivo da confermare della seconda corsa di Palermo.